Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo una nuova apertura di Animal Action 3D Card Ma che è qua? No, ancora tu Come al solito faccio vedere le altre aperture degli altri episodi Questo, 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 questo Questo, questo, questo Questo E niente, apriamo Se ho voluto continuare il Domino Visto che l'altra volta è rosa Domino Questa volta non so se ce lo squande fino in blu Domino Qualcosa del genere Quindi se uscirà una cosa metterò il colore e metterò il Domino 3, 2, 1 Ok, abbiamo trovato la Gigra Quindi sarà l'arancione Domino Ecco E se volete questo ve lo regalo Datemi il vostro congine postale Perché non credo che mi servia qua Ed ecco la Tigra E qua abbiamo il Coso Qua un altro Coso E qua un altro Coso E niente, per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima